Rolando Dubini e Silvio M. hanno pubblicato qualcosa in la Russia di Putin, con l'ambrenne detto, su Facebook. Rolando Dubini 8 giugno 2016 alle ore 20.06 fino a quando gli uomini non avranno imparato a discernere, sotto qualunque frase, dichiarazione e promessa morale, religiosa, politica e sociale, gli interessi di queste o quelle classi, essi in politica saranno sempre, come sono sempre stati, vittime ingenue degli inganni e delle illusioni. Da Lenin, tre fonti e tre parti integranti del marxismo.